salve in questo video parleremo di drag and drop e di cat and paste cose abbiamo già visto ma che date la loro importanza non fa male approfondire per finire la sezione sull'editing parleremo anche del trimming l'editing con il drag and drop è il più semplice e veloce modo di lavorare in l'erra usando solamente il mouse l'idea di fondo è accumulare alcune sorgenti nella finestra resource trascinarle sulla timeline ordinarle nella loro successione voluta e formare così un prototipo di film da visionare nella finestra compositor se qualcosa non ci piace si può sempre aggiustare l'ordine delle clip aggiungere effetti e transizioni inserire nuove clip o cancellarne altre e così via tutto questo finché non siamo soddisfatti del risultato notare che per importare le risorse nella timeline bisogna predisporre il giusto numero e tipo di tracce armate e poi pensare all'ordine con cui vogliamo importarle lo so me l'avete già sentito dire parecchie volte ma vi avverto non sarà l'ultima una sorgente solamente audio non potremmo inserirla in una traccia video o viceversa in genere dei video fatti con una videocamera o con uno smartphone o con una macchina fotografica sono costituiti da una traccia video e due tracce audio per avere la stereofonia è questa infatti la configurazione di default dei progetti in sinelera mentre si strascina una sorgente una clip il puntatore del mouse cambia forma e il gruppo interessato dall'operazione viene bordato di bianco il manuale lo chiama rittangolo bianco non si può spostare una clip dentro una clip già presente si può fare solo in una zona vuota o ai bordi delle clip anche di due clip attaccati fra di loro in questo caso la zona dove si inserirà verrà contrassegnata dalle bow tie che significa cravatta o farfalla o pavilion saremo quindi in grado di scegliere e tenere sotto controllo dove rilasciare le clip si possono anche trascinare più clip in una volta dalla finestra risorse alla timeline la selezione multipla è quella standard cioè control più click su ogni media che vogliamo selezionare oppure shift più click per un intervallo contiguo di sorgenti quando rilasciamo più clip sulla timeline queste risulteranno concatenate nell'ordine dei click fatti nella finestra risorse una volta importati tutti i sorgenti nella timeline e le cose da fare non sono poi molte si può cambiare l'ordine delle clip audio o video oppure si può spostare una clip o un gruppo di clip in un'altra posizione sulla stessa o in un'altra traccia si possono usare anche comandi shuffle e reverse che abbiamo già visto ma a me proprio non piacciono non li ho mai usati bisogna stare attenti a cosa succede quando inseriamo sorgenti in tracce contenenti già altri clip per non avere effetti indesiderati come per esempio la perdita della sincronizzazione fra audio e video ci sono tre casi diversi di rilascio cioè il drop di una clip il primo già visto è quando compaiono le bauti la clip verrà rilasciata in quel punto e tutte le altre si sposteranno di conseguenza il secondo caso è rilasciare la clip e in uno spazio vuoto della traccia dove rilasciamo la clip e dove sarà inserita più semplice di così il terzo caso è quello più problematico se abbiamo sulla timeline più traccia armate di quanti sono i sorgenti che stiamo importando e magari nelle tracce sono già presenti altre clip queste possono venire spostate dal gruppo rilasciato pare tutto logico e normale però se per caso tali clip spostate erano allineati con le relative clip audio che si trovano nelle tracce armate in eccesso queste non sono influenzate dal trascinamento allora le tracce video vengono spostate quelle audio no e se a perdita di sincronia capito bene questo comportamento sappiate che per me è stato fonte di continue frustrazioni forse si può evitare il problema pensando prima ad armare e disarmare le tracce interessate ma se questo non è possibile e ci troviamo con questo problema di video non allineati con il loro audio si può procedere nel seguente modo si disarma la traccia per esempio video dove abbiamo inserito il sorgente poi si seleziona la clip inserita e si usa il comando modifica in colla silenzio in questo modo nelle tracce audio ancora armate verrà inserita una zona muta della stessa esatta lunghezza della clip inserita quindi le clip audio già presenti verranno spostate esattamente come erano state spostate le relative clip video e si riguadagnerà la sincronizzazione perduta più difficile a dirlo che a farlo comunque se ci sono problemi si può sempre usare a linea modifiche che è un comando bellissimo per me generalmente se ne lerra non ha gli aggancio magnetici delle clip il cosiddetto snapping però l'ultima versione del 2017 della 5.1 lo ha abilitato tramite la pressione dei tasti control alt mentre si trascina la clip così facendo la nostra clip si aggancerà ai bordi delle altre clip o agli in out point o alle etichette presenti sulla time bar a me sembra non funzionare però non ho approfondito la questione quindi non saprei cosa dire lo snapping riguarda infatti le clip mentre se nell'era si rivolge alle tracce non c'è un vero bisogno degli aggancio magnetici a parte un po di comodità se ne può fare a meno se si impara bene il workflow di sinelera infine voglio ricordare che le etichette non vengano influenzate da operazioni di drag and drop non serve attivare il pulsante blocca movimento etichette l'unico modo che sposta le label lungo la timeline è quando si inserisce una regione della finestra delimitata dagli in out point in una qualsiasi posizione alla sinistra delle label presenti queste allora si sposteranno a destra seguendo il movimento delle clip già presenti sulla timeline passiamo ora al secondo tipo di editing l'editing di tipo cut and paste deriva dall'ambito audio dove è molto diffuso in sinelera si possono incollare clip nella stessa traccia copiare da differente tracce aprire una seconda istanza del programma e copiare da una all'altra infine si può caricare un sorgente in viewer e da lì copiare nella timeline il concetto base del cut and paste è simile a quello di ogni altro programma scrivere dati tagliati o copiati in una memoria temporanea chiamata clipboard e da qui usarli con incolla o lasciarli in deposito fino a quando serviranno in modalità taglia incolla si può facilmente selezionare una regione e poi tagliarla o copiarla a questo punto muovendo l'insertion point nel punto desiderato possiamo passare la fase successiva cioè incollare questo se non ci sono regioni definite da punti d'ingresso di uscita perché ricordiamoci hanno priorità sulle selezioni che a loro volta hanno priorità sui punti di inserimento nel caso sia presente sulla timeline una regione definita dagli in out point è questa regione ad essere copiata nella clipboard e non la regione selezionata sarà quindi questa regione ad essere incollata nell'insertion point ricordiamo che questo comportamento vale anche per la modalità drag and drop potenza dei punti d'ingresso uscita su una regione selezionata si possono fare tutte le operazioni presenti nel menu modifica che abbiamo già visto nei video precedenti per esempio comandi taglia copia incolla elimina oppure quelli meno ovvi tipo incolla silenzio e regione muta o ancora seleziona tutto con la facile scorciatoia a oppure ancora trim selection di cui mi rifiuto di usare la traduzione italiana o infine ancora a linea modifiche introdotto nella 5.1 sappiate che si può abbinare il copy alla regione muta in questo modo selezioniamo una regione la silenziamo e la importiamo nella clipboard pronta ad essere incollata alla bisogna in cut and paste possiamo anche fare la sovrascrittura di una regione su un'altra è diversa dall'overwrite che abbiamo visto nella finestra we were nel video precedente che aveva origine nella regione della sorgente per arrivare fino alla regione di destinazione lungo la timeline nel nostro caso invece si procede così si seleziona una regione e la si taglia o copia poi si seleziona una nuova regione oppure la si definisce tramite gli in out point e si incolla in questa regione anche qui ci sono due casi se la clip da incollare è più corta della zona di destinazione una parte viene sovrascritta mentre l'eccedente viene eliminato si otterrà quindi una clip più corta se sono presenti altre clip si riadatteranno se invece la clip da incollare è più lunga della regione di destinazione parte di quest'ultima viene sovrascritta e la parte eccedente viene inserita subito dopo spostando l'eventuali clip presenti capita la differenza e capita la differenza nel caso dell'overwrite della weaver un'altra operazione di editing in modalità cut and paste è la concatenazione delle tracce ma siccome l'abbiamo vista nello scorso video non la ripeterò ora se già detto e se ne l'erano un effetto allo split cioè dividere in due una clip per esempio per inserire una transizione all'interno di una clip e non ai suoi bordi però lo possiamo fare selezionando ed eliminando un fotogramma in realtà nella 5.1 è stata introdotta tale funzione con la formazione di hard edge funziona bene ma non ho capito cosa sono e a cosa servono i bordi duri infine parliamo di etichette in questa modalità sono copiabili cancellabili incollabili e così via bisogna solo attivare la funzione impostazioni modifiche di etichette oppure disabilitare il tasto blocca movimento etichette quando attivo uno si disattiva l'altro e viceversa infine parliamo dell'ultima modalità di editing fare trimming su una clip in una traccia dove sono presenti anche altre clip significa restringere o espandere la durata della clip spostando i suoi bordi di confine le altre clip si sposteranno di conseguenza si entra nella modalità trimming avvicinando il cursore del mouse ad un bordo ad un certo punto cambia forma diventando una freccia nera se la freccia rivolta a sinistra allora si può spostare il bordo verso sinistra se la freccia diretta a destra si può spostare il bordo verso destra nel caso di un'immagine fissa si può espandere o contrarre a piacere viene semplicemente prolungato diminuita la durata della foto notare che se prendiamo un bordo e lo restringiamo fino all'altro bordo eliminiamo la clip nel caso invece di una clip video e audio si hanno comportamenti diversi a seconda se la clip è totalmente la sorgente da cui deriva oppure ne è solo una regione parziale nel primo caso si può solo restringere perché per fare un'espansione occorre incollare dei dati in più prendendoli dalla sorgente ma non esistendo né altri perché sono tutti già nella clip non si può avere espansione nel secondo caso invece si può fare lo shrink e anche il grow a piacere naturalmente entro limite della durata totale della sorgente il trimming si può effettuare cliccando e trascinando il bordo con il tasto sinistro oppure con il tasto destro infine con il tasto centrale del mouse il tasto sinistro del mouse agisce nel modo chiamato sposta modifiche seguenti ed è il comportamento più abituale che abbiamo descritto prima restringe i bordi della clip o gli espande se può le altre clip si sposteranno di conseguenza il tasto destro si chiama sposta solo questa modifica e si comporta come nel caso precedente con la differenza che le altre clip non si spostano per fare spazio bensì si restringono o si espandono a seconda dello spazio che va a occupare il trimming insomma impone il trimming anche alle altre clip se possibile ovviamente il tasto centrale del mouse ha il comportamento più strano ma non posso mostrarlo perché a me non funziona dentro il mio linux il tasto centrale intendo e quindi nemmeno dentro se nel rgg cercherò di descriverlo a parole funziona solo se la clip è più piccola della relativa sorgente facciamo il caso che la sorgente si allunga 20 secondi e la clip sia di 10 secondi e che parta dal secondo 5 e finisca al secondo 15 facendo il trimming con il tasto centrale la clip mantiene la sua durata di 10 secondi ma il contenuto è scivolato avanti o indietro nella source per esempio otteniamo la clip parte al secondo 0 e finisce al secondo 10 oppure parte al secondo 10 e finisce al secondo 20 e così via spero di essere stato chiaro infine voglio far notare che se facciamo il trimming di una clip appartiene ad un gruppo cioè ai bordi iniziali allineate alle altre clip allora il comando agirà anche sulle altre clip bene abbiamo finito di descrivere l'editing dal prossimo video affronteremo la finestra compositore che è un argomento difficile ma bellissimo un argomento difficile ma bellissimo